Il trattativo è stato una cosa molto importante per me, perché già ho saputo che le Ascoli mi stanno seguendo. Abbiamo fatto un campionato nei primi mesi, abbiamo fatto un buon campionato. Io gioco come un attaccante centrale, pure può giocare esterno alto con formazione 4-3-3, pure sono un po' veloce. Questo anno voglio crescere di più, perché ancora ci sono tante cose per imparare, voglio mettere in disposizione con tutte le due squadre. Penso che loro hanno fiducia in me, io sto ancora imparando a crescere, poi vediamo perché sono qui a fare il meglio, per il più possibile portare la squadra al più alto possibile. Abbiamo un buon gruppo, la prima squadra ci sono tanti giocatori con qualità, esperienza. Hai qualche giocatore importante al quale ti ispiri, qualche campione? Sì, ogni giocatore ha il suo leggendario, io sì, ce lo dici? Eh sì, è Cristiano Ronaldo. Abbiamo puntato molto sui giovani, abbiamo puntato sugli altri piedi dall'Agnolese, che si è messo in buona vista con i gol che ha fatto, è un attaccante molto giovane, è caratteristico, è un puntato centrale che sa attaccare gli spazi. Destro e sinistro, però è un po' più forte di destro, giusto? Eh sì. Un buon colpo di testa, io ho visto una volta solo del Duca, mister Mangia, lo schiera tra gli allievi come unica punta, quindi gli fa affrontare tutta la difesa dell'Ascoli titolare, quindi sta facendo un po' di rossa, però è un calciatore molto capabile, è molto forte a livello di testa, quindi è un giovane su cui puntiamo molto. Grazie.